I campi di Baristi, Ariamner la gente del centro sud, Edith Mecettini, direttore commerciale della Dezetta del Casa. Mi lasciamo anche una volta. Io sono il campo animazione nel Febbalcasa Italia, quindi sono felice di ritrovarvi. il mio desk sarà qui a fianco tutte le mattine ne sono disponibili dalle 9 alle 10 per le campionature quindi vi aspetto lì a parte gli scherzi sono contento di rivedermi tutti in questo viaggio stacchiamo, non dimentichiamoci di truciolare la formaldeide e risperiamo questo bellissimo villaggio questa bellissima località ciao a tutti, ci vediamo in questi giorni voi siete sempre abituati a vedere noi quest'anno invece vi abbiamo portato Alberta Saccani Alberta Saccani è la responsabile dell'ufficio una delle responsabili dell'ufficio marketing sì, è vero insieme a Stefano Latte insieme a Stefano Latte e quindi da quest'anno ci saranno con lei quindi per qualsiasi lamentiera dell'ufficio marketing rivolgetevi sempre a Michele Cecchini dalle 8 alle 9 no, dalle 9 alle 10 lui fa le campionature ma prendi anche un po' di lamentere dai, scherzo buona vacanza a tutti è un piacere per me essere qui complimenti ancora a tutti per aver raggiunto il vostro obiettivo e per partecipare a questa meravigliosa vacanza allora buon male a tutti buona giornata, grazie